Venga, è di sopra. Avanti. Vuole bere qualcosa? Grazie, ho poco tempo. Ho visto gli amici. Il movimento fondi avrà luogo il 7. Ecco le fotocopie dell'itinerario, l'orario dettagliato, i punti di passaggio e il dispositivo di protezione. Motociclisti? No, solo due vetture borghesi. Una cento metri avanti e l'altra dietro. Nient'altro? No, no. Giocano sull'anonimato. È un movimento speciale che si fa una volta tanto e nessuno può prevedere. Il personale sarà convocato all'ultimo momento. E il sistema di allarme generale? Non lo cambiano tutti i mesi. Ecco le consegne comunicate alle pattuglie per il miso in corso. Ci sono i posti di blocco? Certo. Con quello può attraversare metà della Francia senza incontrare un polizio. Non andremo tanto lontano. Naturalmente. Lei farà la consegna finale? Sì. Benissimo. Non mi ha detto l'importo? Fra 800 milioni e un miliardo. Un terzo per gli amici e un terzo per me e un terzo per lei. Mangiano forte gli amici. Grazie. Grazie.